Ho visto questo tetto gigante e ho pensato, cazzo ce l'ho a 50 metri da casa e non l'avevo neanche mai visto. Io ricordo quel periodo come una grande ossessione, ogni sera ero sul letto, non riuscivo a chiudere gli occhi, ripensavo ai movimenti. Iniziavo a sentirsi pressato, iniziavo a sentirsi con i tempi abbastanza stretto. Un limite puoi provarlo solo se decidi di investire mesi e mesi su un progetto, solo su quello, centinaia di ore, di tentativi, quello puoi chiamarlo un vero limite.